Restano ancora chiuse le piscine e le naia di di Pescara e con l'aumentare dei giorni di fermo crescono anche le preoccupazioni da parte dei lavoratori ad un mese e mezzo dal Consiglio Comunale Straordinario di Pescara in cui l'ente ha manifestato la volontà di prendere in gestione l'impianto di proprietà della Regione Abruzzo dopo la fine anticipata del rapporto con l'ATNAIA di 2020. Mentre lunedì prossimo in programma un incontro proprio per la definizione del cronoprogramma per il ritorno alle attività nel giorno della festa del lavoro la CGL torna ad esprimere apprezzione per il futuro dei lavoratori. Per il segretario regionale SLC Guido Cupido quella delle naia di è una situazione quasi paradossale perché l'avvicendamento che si doveva avere con il Comune di Pescara e che aveva lasciato sperare per una riapertura anche imminente non è ancora avvenuto. Il sindacato, si legge in una nota, aveva mandato nei giorni scorsi una lettera al Comune di Pescara per chiedere un incontro congiunto con le parti interessate per parlare della riapertura ricevendo tuttavia la risposta di uno slittamento dell'incontro perché sono ancora in corso le istruttorie da parte degli uffici. Sul futuro dei lavoratori che oggi sono ancora in cassa integrazione non c'è ancora la procedura di licenziamento collettivo per arrivare poi ad una riassunzione spiega dalla SLC Cupido ma anche in questo caso occorre capire come procederà e si evolverà la situazione. Dal canto suo, Regione Abruzzo, con l'assessore allo sport Guido Liris, rassicura sul lavoro che si sta portando avanti per dare una iniezione di flussi importante agli impianti natatori che sono tra i più colpiti dalla pandemia. A inizio settimana faremo un incontro ad hoc con il presidente del Comitato Finabruzzo, Cristiano Carpente e con il presidente del Conienzo in Bastaro per analizzare le tematiche relative alle piscine, dice Liris spiegando che per quanto riguarda le naidi, dopo aver affidato la gestione al comune di Pescara la situazione è quasi definita. La riapertura delle piscine le naidi, perciò, se non ci saranno ulteriori intoppi, potrebbe avvenire fra il 15 e il 20 di maggio ma poi occorrerà il tempo necessario a fare i lavori di pulizia, sanificazione e riallaccio delle utenze con nuovi contratti per riaprire definitivamente al pubblico.